ciao e benvenuto a questo corso sul lavorare a distanza come trovare e collaborare con clienti privati io sono il tuo sensei per questo corso sono alessandro di ruscio e sono quello che molti chiamano un online entrepreneur un libero professionista potremmo dire libero professionista perché lavoro con clienti privati e poi ho un online business al lato di questa mia attività con clienti privati non sono più un dipendente perlomeno lo sono stato per un lungo periodo della mia vita ho lavorato come dipendente e poi un giorno ho deciso di chiudere questa mia attività dipendente e iniziare a lavorare per conto mio non ti spiego in dettaglio chi sono e cosa faccio perché lo spiegherò nelle prossime lezioni ti basta sapere che io insegno ai miei studenti come chiudere il loro lavoro dipendente come iniziare a lavorare con clienti a distanza quindi tutto quello di cui parlerò in questo corso come probabilmente saprai voglio darti un'introduzione a questo corso come probabilmente saprai tutti i corsi del digital dojo sono divisi in moduli sezioni e lezioni e questo corso non fa differenza ora alla fine di ogni modulo ti addarò un assessment un assessment che tu dovrai completare completando quell'assessment avrai accesso alla cintura di un determinato colore associata al modulo che è appena superato quindi ogni modulo è associato ad una cintura questo modulo che stai guardando è associato alla cintura bianca la prima cintura la cintura numero uno di questo corso quindi ricorda che alla fine di ogni modulo avrai un assessment che dovrai completare perciò ti consiglio di stare molto attento a tutto quello che dico in queste lezioni e anche se una lezione può sembrarti ovvia ti consiglio di seguirla per intero perché magari parlerò di alcune cose che ti aiuteranno a ricordare dei concetti che non che hai dimenticato oppure ti insegnerò cose nuove quindi anche se pensi che io stia parlando di qualcosa di ovvio qualcosa che già sai comunque segui la lezione perché poi ti chiederò ti farò domande alla fine quindi questo riguarda il corso ma vorrei anche spiegarti per quale motivo è importante fare questo corso so che l'hai già scelto ma voglio spiegarti per quale motivo è importante seguire tutto quello di cui andrò a parlare durante questo corso perché scegliere questo corso allora alcuni punti fondamentali per cui dovresti seguire questo corso numero uno diventando un libero professionista si ha maggiore libertà ora il motivo per cui sono diventato un libero professionista è principalmente uno io ho vissuto a londra per molto tempo ho lavorato come grafico a londra per molto tempo come come dipendente e quello che non sopportavo assolutamente di questo lavoro dipendente non era il mio lavoro in sé perché non potevo lamentarmi o il mio stipendio era invece il fatto che dovevo rimanere per otto o nove ore in uno specifico posto lavorando su qualcosa che di cui non avevo interesse che 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 veniva dettato dall'alto dal mio capo qualcuno mi diceva cosa dovevo fare io dovevo solamente eseguire gli ordini non era quello che volevo fare perlomeno non era la mia aspirazione personale non era quello che volevo fare altra cosa che non sopportavo vado un attimo a full screen perché non hai bisogno di fissare una slide fissa appunto altra cosa che non sopportavo era il commuting quello che qui chiamano il commuting cioè spostarti da casa tua al tuo lavoro tutti i giorni ogni giorno dovevo fare un'ora di metro per andare dal da casa mia al mio lavoro e se hai vissuto a londra in qualsiasi altra metropoli sai che entrare in una metropolitana o perlomeno spostarsi nelle ore di punta quando tutte le persone vanno in ufficio tornano all'ufficio è terribile e a londra è terrificante era una cosa che odiavo devo stare per un'ora dovevo fare questo viaggio per un'ora e essere rimanere dentro la metro stretto come una sardina era una cosa che non sopportavo in più dopo di questo quindi questo erano due ore della mia giornata che io spendevo schiacciato come una sardina all'interno della metro anche prendendo una bici per andare al tuo lavoro comunque sono delle ore che tu perdi solamente come commuting ok farai attività fisica però comunque sono ore che perdi sono due ore al giorno che sei sulla bici o in metro per arrivare al tuo lavoro poi arrivato al lavoro dovevo stare lì per otto ore otto o nove ore fermo nello stesso posto nel mio cubicolo e lavorare su qualcosa che non mi interessava alla fine ora non potevo lamentarmi non era un lavoro incredibilmente stressante ma era un lavoro che non volevo fare non era la mia aspirazione di vita non era la mia passione quindi un giorno ho detto ho bisogno di riprendere in mano la mia libertà la mia libertà personale non il mio la mia idea non era di guadagnare di più o la mia idea era di riguadagnare la mia libertà personale oltre altra cosa che era molto difficile era il fatto di tornare in italia per vedere la mia famiglia per vedere i miei amici era molto difficile perché lavorando come dipendente avevo un tot di giorni che potevo usare come vacanza e io spendevo quasi tutti i giorni che avevo nell'anno solamente per tornare in italia e vedere la mia famiglia non potevo viaggiare non potevo fare altro quello che volevo invece era riavere il tempo per fare quello che voglio lavorando come dipendente lavorando come libero professionista e lavorando con clienti remoti a distanza ora ho la possibilità di spostarmi di andare anche di viaggiare e lavorare allo stesso tempo quindi è una cosa che non potevo assolutamente fare prima prima dovevo stare per forza nello stesso posto per otto ore al giorno ero vincolato nel posto in cui vivevo e non potevo fare altrimenti dovevo rimanere lì e basta adesso invece ho la possibilità di se voglio andare in italia visitare la mia famiglia posso anche lavorare dall'italia se voglio viaggiare voglio vedere una nuova città posso viaggiare e lavorare allo stesso tempo cosa che non potevo fare prima sono quello chiamano i digital nomads sono queste persone che hanno la possibilità di lavorare ovunque essi siano e in questo corso io voglio spiegarti come è possibile come non è un sogno alla fine sembra una cosa assurda una cosa che solamente altre persone fanno invece no è possibilissima è una delle cose più semplici del mondo ora come ora soprattutto in questo periodo in questo periodo ora che abbiamo accesso a qualsiasi cosa in qualsiasi ora del giorno è possibilissimo ed è semplice devi solo sapere come fare il problema è che molte persone non sanno come fare non sanno come trovare clienti non sanno di cosa hanno bisogno non sanno come parlare con i clienti per convincere i clienti a lavorare insieme non sanno come mantenere il contatto a distanza ci sono molte cose di cui non si ha percezione non si ha competenza in questo corso io andrò a spiegarti tutto dalla a alla z quindi una di queste cose è la possibilità di riguadagnare la propria libertà cosa che ho riguadagnato e di cui sono felicissimo sono la persona più felice del mondo per avere la libertà che molte altre persone non hanno altra cosa che è molto più semplice crescere professionalmente e finanziariamente se tu sei un libro professionista se lavori come dipendente immagino tu già sappia che è molto difficile avanzare di carriera molto difficile perlomeno prende molto hai bisogno di parecchio tempo per avanzare di carriera hai bisogno a volte di anni devi lavorare in modo impeccabile e poi dopo alcuni anni ha la possibilità di avanzare di carriera allo stesso tempo hai bisogno di molto tempo per avanzare finanziariamente nel tuo lavoro per aumentare il proprio stipendio servono anni e comunque ogni aumento di stipendio un aumento di stipendio minimo cosa invece che non è presente lavorando come libero professionista il motivo è perché puoi scegliere con quali clienti puoi lavorare puoi scegliere quanto guadagnare quanto chiedere ai propri clienti e poi decidere con chi con quali clienti vuoi lavorare se vuoi lavorare all'inizio con clienti piccoli poi mano a mano lavorare sempre più con clienti sempre più grandi e quindi guadagnare di più aumentare il tuo status e aumentare a livello di carriera e questo accade molto velocemente se lavori come libero professionista puoi avanzare molto velocemente nella tua carriera e puoi guadagnare di più molto velocemente nella tua carriera cosa invece che di cui che un lavoro dipendente accade molto lentamente hai bisogno di molto più tempo per avanzare di carriera e avanzare avere uno stipendio più grande quindi queste sono cose molto diverse se stai parlando di lavoro dipendente o di libero professionista altra cosa è che diventare un libero professionista e lavorare con clienti a distanza è alla portata di tutti purtroppo ci sono delle delle credenze credenze popolari limitanti non so se questa è la traduzione esatta dall'inglese ma ci sono delle cose che crediamo che molte volte non sono vere è di una credenza limitante una credenza popolare limitante che è molto difficile iniziare a lavorare come libero professionista perché hai bisogno di hai bisogno di soldi hai bisogno di qualcuno che ti finanzi hai bisogno di molto tempo per far funzionare la tua attività ci sono tutte queste cose che sono dei delle credenze limitanti e non sono effettivamente vere ora come ora è molto molto semplice iniziare a lavorare per conto proprio nel caso tu debba debba iniziare debba aprire un'azienda o aprire un ristorante o un bar sono d'accordo con te non è semplice hai bisogno di finanziamenti magari il primo anno sarà in perdita quindi è un rischio è un rischio molto grande lavorare lavorare invece come libero professionista lavorare online con clienti a distanza con questo non hai bisogno di grandi finanziamenti alle spalle effettivamente non hai bisogno di soldi è una cosa che puoi iniziare da zero solamente con il tuo computer con accesso ad internet ed è alla portata di tutti è davvero alla portata di tutti ora abbiamo la possibilità di usare internet di essere in contatto con chiunque da qualsiasi in qualsiasi parte del mondo in qualsiasi momento vogliamo se hai la possibilità di parlare l'inglese puoi lavorare con qualsiasi persona in qualsiasi parte del mondo io lavoro con persone in nord america come sud america come europa come in asia non ho alcun problema posso raggiungere qualsiasi persona in qualsiasi momento non ho questo problema invece lavorando come dipendente la tua gamma di scelta è molto limitata è limitata al territorio è limitata al posto in cui vivi puoi lavorare solamente con aziende che sono intorno a te che sono nel tuo territorio per questo motivo hai una scelta molto limitata e non hai la possibilità come lavorare a distanza con clienti a distanza anche se solo tu vuoi lavorare in italiano o lavorare in lingua italiana hai la possibilità di lavorare con clienti in qualsiasi parte dell'italia non devi per forza trovare clienti nel posto in cui vivi quindi è molto più semplice devi solamente sapere come fare ed è alla portata di tutti grazie a internet hai la possibilità di accedere a qualsiasi persona in qualsiasi parte d'italia o del mondo quindi è assolutamente alla portata di tutti non è una cosa impossibile devi solamente sapere cosa fare come parlare con il cliente come interfacciarti con il cliente come creare una collaborazione come portarla avanti sono cose che devi sapere ma ti spiegherò tutto nei dettagli durante questo corso come ti ho già detto altre cose che non servono grandi risorse economiche hai solamente bisogno di un computer e di un accesso ad internet quando ho iniziato con il mio con la mia attività con il mio business la le uniche cose che avevo erano un computer il mio cellulare e un accesso ad internet tutto lì non avevo nient'altro e non avevo bisogno di altro poi mano a mano che ho continuato a lavorare come libero professionista che ho allargato la mia attività ho iniziato a investire in altri oggetti o in altra in altri tool di cui avevo bisogno come un microfono come le luci come la telecamera per il mio youtube channel quindi tutte queste cose le ho comprate poi ho investito poi in tutte queste cose ma all'inizio è stato ho iniziato solamente con un computer con il mio cellulare con l'accesso internet nient'altro solo questo perciò non pensare che hai bisogno di grandissime risorse economiche perché in effetti non hai bisogno di grandi risorse economiche puoi iniziare da zero poi mano a mano che lavori puoi investire in altre cose che ti serviranno questa lezione voglio anche parlarti dei prerequisiti di cosa hai bisogno per iniziare a lavorare con cliente a distanza come libero professionista ora la prima cosa di cui hai bisogno che ti ho già detto è avere un computer ed accesso ad internet queste due cose chiaramente non puoi iniziare a lavorare come libero professionista altra cosa è che hai bisogno di conoscenze minime di risorse informatiche cosa voglio dire con questo voglio dire che se non sai dove mettere mano quando sei di fronte ad un computer sarà molto difficile iniziare a lavorare con clienti a distanza quindi puoi anche non iniziare per nulla hai bisogno di sapere come fare per rimanere in contatto con questi clienti devi sapere come mandare un'email devi sapere come fare una chiamata una face call una chiamata con qualcuno faccia a faccia devi sapere come usare delle chat per rimanere in contatto con il cliente devi sapere come come mandare delle fatture come creare delle fatture mandarle al cliente tutte queste cose devi sapere come farle alcune delle cose te le spiegherò durante questo corso altre cose invece che sono competenze di base non posso spiegarti come come si usa un'email non posso non voglio spiegarti come si usa un programma come skype o come hangout di google o come zoom non ho tempo qui per spiegarti tutto nei dettagli però devi sapere come fare già da solo se non sai queste se non hai queste competenze minime di informatica avrai qualche problema avrai qualche problema in più lavorando come libero professionista ultima cosa che è opzionale ma poi non è così opzionale il fatto che devi conoscere avere un minimo di competenze a livello grafico vedo sempre più persone fare questo errore l'errore che si dà per scontato che il l'impatto grafico che abbiamo nelle nostre pagine web nei nostri nelle nostre landing pages nei nostri siti web nei nostri profili social non hanno importanza ecco questo è un errore che molti fanno purtroppo l'impatto grafico è molto molto importante se si lavora con clienti a distanza se qualcuno il primo impatto che qualcuno ha di noi è il nostro sito web il primo impatto è visivo perciò nel caso io abbia un sito che non è performante che non è bello da vedere che non è usabile magari non funziona bene su dispositivi mobili come cellulare ipad non funziona lì o si vede male questo è il mio biglietto da visita un biglietto da visita terribile capiranno che non sono una persona non sono professionale non sono a livello non sono allo stesso livello del mio cliente quindi non vorranno lavorare con me perché il primo impatto che avranno di me è l'impatto visivo è la mia pagina web sono i miei social media e se queste risorse non sono a livello non sono non incontrano le specifiche quello che il cliente sta cercando io non lavorerò mai con il cliente il cliente non accetterà mai di lavorare con me perciò è molto importante ora non chiaramente non tutti hanno delle competenze a livello grafico io sono fortunato perché ho lavorato come grafico per una lunga parte della mia vita quindi tutto quello che ho creato nel mio business il sito web il canale di youtube tutti gli asset in animazione tutto quello che ho fatto l'ho fatto per conto mio all'inizio perciò io sono fortunato per quello che faccio ma non tutti hanno queste competenze grafiche chiaramente nel caso tu non abbia competenze grafiche o non sai come creare un sito web o non hai gusto grafico magari non tutti devono avere gusto grafico ti consiglio di metterti d'accordo con qualcuno che conosci che queste competenze le ha ancora online è molto semplice raggiungere chiunque puoi trovare qualcuno che ha queste competenze grafiche e voglia lavorare con te magari dividendo i profitti ti consiglio di fare questo nel caso tu non abbia assolutamente competenze grafiche purtroppo questo mi capita molte volte lavoro con persone che non riescono a trovare clienti poi do un'occhiata al loro sito web sono dei siti che non sono usabili che sono terribili da vedere come puoi lavorare con clienti se il tuo biglietto da visita è questo biglietto da visita perciò è molto importante come ti presenti online il primo impatto che una persona ha davanti allo fermo è visivo se tu non raggiungi il livello che questo cliente sta cercando tu non lavorerai mai con questo cliente cliente non deciderà mai di lavorare con te quindi è molto importante quello che l'impatto visivo iniziale che un cliente ha di te quindi non voglio ripeterlo ancora se non hai queste competenze magari trova qualcuno che conosci un conoscente un amico magari trova online entra in un gruppo di facebook dove ci sono dei grafici chiedi se qualcuno vuole iniziare a lavorare insieme a te però fai qualcosa per avere un sito web o una pagina web o i tuoi profili social al livello di quello che sta cercando che stanno cercando i clienti quindi ad un buon livello durante il corso ti spiegherò poi quello di cui tu hai bisogno hai bisogno di una pagina web hai bisogno dei profili social ti spiegherò nei dettagli quello di cui hai bisogno per iniziare a lavorare con clienti ma per adesso devi sapere che l'impatto grafico è molto molto importante questo è tutto quello che volevo dirti in questa lezione nella prossima ti parlerò invece di sbocchi professionali per chi inizia lavorare con clienti privati a distanza quindi ci vediamo nella prossima lezione